Buonasera dalla redazione del Tg della mobilità. Orario prolungato questa notte per le linee della metropolitana come sempre nel fine settimana. Le ultime corse dai capolinea per metro A, metro B e metro C partiranno all'1.30. Orario lungo anche per i tram della linea 8 sui binari sino alle 3 di notte. E questa notte zona traffico limitato in funzione. I varchi saranno chiusi dalle 23 alle 3 nelle ZTL di centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Le altre notizie riprenderà domani mattina il cantiere su via Salaria all'altezza di Ponte Salario in direzione del raccordo anulare. Cantiere che oggi ha creato forti congestioni di traffico per il restringimento della carreggiata. E domani in centro, ricordiamo, via dei fori imperiali sarà isola predonale per tutto il giorno, linee bus deviate su percorsi alternativi. Per il momento è tutto, il Tg della mobilità torna domani mattina.